il cuoco che boccia stasera che gioca un porcinello questo cavallo è un vinato va bene grazie giocala così una boccia grazie a te bravo perché ora la porto giù scappo 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 su boccia lei ci vuole uno come Fabio allora ha preso anche lui ma se vuole lui sta bene col piede sapete come a me non mi è venuta? non sta bene papà andi a bocciare tu vuole un'altra cosa esatto distrutto bella pensa a te l'hai presa vai lui l'ho giocata così l'ho giocata nella sua perché l'alcolà incastrata di angolo non esce sai quello che devi fare l'ultimo bravo che cosa allora qui il migliore Fabio ci riesce a bocciare e ci rimane sempre loro non è vero ma deve prendere il punto che è il paletto può prendere il punto se no deve bocciare cosa boccia? che c'è sempre loro e che ti dico va bene hai ragione dai un pocciare per a me va a fare il punto sempre è il punto Matteo